buongiorno buongiorno a tutti buon sabato oggi ci sentiamo un pochino così sapete quando vi alzate con un pochino di languorino quindi ho detto ma vediamo scendo vediamo cosa trovo ho trovato una cosa piccolina per soddisfare un languorino ma questo video per farvi vedere che mi stai mangiando io torta l'altra è buonissima ora farvi vedere cosa sta facendo il conto accanto a me si è fatto perdonare guardate cosa ho dovuto comprare si è fatto perdonare guardate cosa io spettacolo gaetana fai il compleanno di nuovo si fa un altro regalo di nascosto guardate ragazzi guardate cosa io ho dovuto comprare mamma mia ma voi lo rendete conto gaetana fai il comple quando lo fai di nuovo il compleanno che ti fa un regalo di nascosto zie forza cugine tutti i compleanni mi costa un mare di soldi ah ma come una via ragazzi a posto cosa gli metterai ora ma a ti andò a settato un nome che accenda che candele gli metti ora poi vediamo devi comprarle mi hai detto ti compro anche le candele ma le candele costano che ho stato il candelabro si certo questo candelabro di cristallo è costato un mare di soldi grazie mi rendete conto come mi ha perdonato come mi ha perdonato buona domenica cristallosa a dopo non so se voi riuscite a capire le condizioni mie perso se voi riuscite a capire le condizioni mie